Ciao Martin Bart, questa è la prima volta che qualcuno si siede accanto a me da quando con abili manovre di corridoio sono riuscito a prolungare di venti minuti le ore di scuola Senti Martin, sono in cerca di un amico che non mi molli per una ragazza Sono io! Nessuno più di me è impopolare con le signorine quanto con i signorini Sì, vabbè, ti va di fare qualcosa dopo scuola? Ci sto! Ehi ragazzi, Bart e io abbiamo il piacere di annunciarvi che siamo amici! Senti Bart, che ne dici? Ti va di sentirmi suonare il liuto? Certo! Forna casa mio bel guerriero, ora le reti sono colme di pesci